pronto? Buonasera sono Antonio di Costa Crociere, vorrei parlare con Chiara Argentino, grazie. Chiara Argentino in questo momento è assente, sono il marito, comunque dite. Pronto? Pronto? Le chiedo scusa, non ci è ancora pervenuto il pagamento, la valuta del pagamento non è ancora arrivata nel nostro database? La valuta? Io ho un amico che è stato da lui il conto, ma lo so. Non ho capito, scusi? No, io già ho stato dato questo conto. A chi ha pagato? Le chiedo scusa, a chi ha pagato lei? Adesso non mi viene, non mi viene. Ma lei ha pagato ad un'agenzia? Diciamo sì, un'agenzia, un amico diciamo così, ho dato a lui, diciamo ho fatto io il pagamento. Sì, ma lei è certo che questo amico abbia fatto il pagamento a Costa Crociere? Questo è il discorso. Perché a noi non è arrivato nulla e purtroppo ci sono solamente ancora oggi di tempo. Poi scadono i termini, decade la prenotazione. Allora, io vi do questo numero telefonico. No, io purtroppo non posso chiamare, deve risolverlo lei. Allora, va bene, allora datemi una mezzometria. La richiamo io più tardi, la ringrazio, buonasera. Va bene, grazie. A risentirla, a risentirla. Bravissimo! Bravo, bravo! Flavio, tocca a te adesso. Vedibilissimo. Il tutto però prima che il padre chiami questa agenzia. Dobbiamo essere veloci? Dobbiamo essere veloci, sì. Pronto? Dopo? Vai a Baccio. Eh no, ma devo fare la Costa Crociera. Chi ti ha telefonato? La Costa Crociera. E beh? Eh, hai chiesto, non sono arrivato. Che cosa dobbiamo fare? Eh, papo, chi ne capisce? Ma hai chiamato Roberto stamattina? Mi ho telefonato e gli ho detto mandami i documenti e gli ho detto Flavio non mi ti dà niente ma mi sono stuputo per fare chi ti paglia. Ma questa settimana c'è che risolvere. Fra, oh Fra, oh Fra, ora chiedi te l'ho telefonato e gli ho detto che mi hai chiesto, ci vanno per dimmi la preparazione. Eh, papo, perché io ci sono stuputo? Che cosa c'è? Eh, Praticci, ora tu devi fuggire la mamma e ora mi chiedi te l'ho telefonato. Eh, ora chiedi te l'ho telefonato, mamma. e tu che vuoi amico? ora mi hai deciso di stare dall'andello a me e va, ci faccio il minato pagamento ma tu sei buono carico parlo con mamma no, aspe, aspe quando quando lo petto i tenni ci dà no, parlo sempre con mamma non parlo con me ma sta la mamma no, no, sta cercando c'è il telefonino lei c'è il telefonino a prezzo ma vedo se posso chiamare lei vabbiamo chiamare lei va bene va bene ok, attacca, attacca con babbo vai, chiama mamma, bravo bravissimo, bravo, bravo chiattore, chiattore, sì così si fanno gli scherzi, così li voglio i ganci agganciati così li voglio i ganci pronta? mamma Flavio ma dimmi senti, ha chiamato la crociera è morto con babbo ma e allora ha chiamato a Roberto stamattina ha detto vabbè mandami i documenti ha detto Flavio io mi sono sicuro di soldi che fai chi si paglia e ora questa settimana avevi che risolvere poca situazione Flavio chi si fanno come è risolta la situazione che mamma ha chiamato perchè i soldi ancora non arriva la Maria c'era una roba che mi ha detto pure a me ma come stai a cittare la costa crociera che ti chiamano io mi stai a tenermi una settimana vedi di fare il possibile questa settimana ma questa crociera ti ha telefonato che ci posso fare che buona mia facciamo una tua pagamenta niente chi fa una tua pagamenta Flavio noi ma che fai pensa a crociera fai una tua pagamenta e quanto Roberto il pieno ci dà ma che stai ammaccando Flavio fammi il numero di Roberto fammi chiamare Roberto a me che lo chiami ma che stai dicendo ma che stai facendo Flavio che stai facendo io faccio una tua bonifica ma stai mandando i numeri e mamma che vuoi a me è capitato ma che cosa è capitato no Flavio aspetta aspetta un attimo mi chiamo il numero di Roberto a me mi chiami noi ci chiamo a tu Roberto eh fammi chiamare subito perché vieni bene vento ma ti faccio faccio fare la Roberto ma Flavio vieni a quanto tempo tu sto dicendo ti faccio fare la Roberto dai ciao ciao chiami faccio pure Roberto tanto ci sono Roberto a fianco a me sono Roberto special guest Roberto 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 no allora non è Alberto è Alberto che poi comunque è parente Roberto mi sono confuso eh lo so sono Roberto vai chiamami a mamma Roberto umalamente sono Roberto signor Roberto senti ma che è successo signor sono un gomme in merda mi hanno servuto i soldi eh no ma vabbè ma non mi interessa ti sapete a partire ma che stai dicendo che ha già fatto ma non vuoi pensare no Roberto non esiste proprio io so c'è il compleanno di mia figlia io sapete dove devo partire non vuoi farci di stucchiare niente ma Roberto ma mi dispiace tutto quello che potete ma io non lo fa subito non a me ma non ho cozzato proprio non mi estende i soldi per partire ha già avuto a cattere i kit pagli ma ha detto quello che vuoi dire Roberto ma io me lo sentivo che mi facevi una cosa del genere ma tu non ti puoi comportare così con me avete ragione io ce l'ho ricercato come l'anno di mia figlia io mio marito è stato lo scizziato chiamatemi non mi merda ma tu non ti chiamai non mi merda no ma la tariccia ma la tariccia perché sono non mi merda ma no ma la tariccia 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 purtroppo io il mio marito è stato in pensione ma come va a capire che vado a vendere i soldi mi hai fatto perché non ha sottosche salti lì mi hai fatto se vi è sconfissato ma la tariccia mi hai compito e non vai la tariccia ma la tariccia ma la tariccia mi hai ripreso ma la tariccia 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 che potete fare? facite come facetto su e bravo ci sei cascato sciocchio ci sei cascato stupidio ci sei cascato è scinta ci sei cascato oh c'è povera Chiara benvenuta tu nooo devi richiamarla subito ma chiamate anche a papà ma chiamate pure papà chiamate tutta famiglia che sarà tutto imbavarduto adesso il signore scabio saluta mamma amma ciao un braccio un braccio un braccio esatto fate presto signora sta partendo palermo cur sta partendo grazie 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 a tutti.